Musica Ragazzi benvenuti in questo video un po' particolare, si lo dico spesso un po' particolare ma questa volta siamo veramente completamente fuori dagli schemi E' un video diciamo sperimentale, ok? Un video che non ha niente a che vedere con tutto ciò che io abbia mai fatto su YouTube Ma è una cosa che però ho fatto su Twitch due giorni fa e che mi ha divertito veramente tanto Signori, oggi andremo a fare un escape room tramite un gioco che ho scaricato da Steam pagato 2€ Dovete sapere infatti che qualche giorno fa stavo andando in live e non avevo voglia di giocare a niente di tutto ciò che conoscessi E mi sono quindi messo a frugare su Steam e ho detto cazzo ma secondo me mi piacerebbe giocare un escape room Perché io ci giocavo ai tempi di Flash Games quando ero un bambino a quei giochi flash appunto di questo tipo Quindi ho cercato e ho trovato qualche gioco escape appunto che costava una minchiata 2€ Sono fatti un po' alla cazzo cioè per farvi vedere no? Io ora lo farò insieme ai miei amici, i giocatori si vedono così con questo busto Però sti cazzi cioè ne abbiamo fatto uno appunto durante una live, l'abbiamo risolto in un'ora e mezzo Ed è stato molto divertente, veramente tanto E quindi sì, faremo appunto un video su questo gioco Questo qua in particolare ha già dentro di sé tre stanze appunto tutte hanno lo stesso obiettivo Ovvero cercare il modo di uscire dalla stanza E noi oggi faremo questa qua, Psycho Circus che si presenta in questo modo Questa è un'immagine di descrizione Il video sicuramente durerà un bel po', ci saranno un sacco di tagli Cercherò di renderlo il più comprensivo possibile per farvi capire un pochettino magari Come ci destreggiamo all'interno di questo gioco raga Però apprezzerete questo video diverso e speriamo soprattutto di riuscire a risolvere questi enigmi ecco Siamo, Seba, sei entrato? Vai, vai Raga, voglio silenzio, concentrazione perché sarà difficile Quindi il primo che parla, la prima scimmia, intanto questo qua La webcam la metto più piccola possibile perché si deve vedere bene tutto quanto Ok Ma dove siete? Ah, ecco lì Dentro, ok Allora Oddio, è pieno di codici, se guardi in giro è veramente pieno Allora, iniziamo ad aprire un po' di cose Vuoto Con ordine raga Qua questo non lo apre Questo qua è chiuso e lo si apre con questo codice qua Qua ci sono delle palle Allora, qui ci sono, raga, qui ci sono dei Simbolo del vento, della foglia, del fuoco e del Ragazzi stanno bussando È vero? Ah no Ho scattato una porta Oh cazzo Allora, vedete qui dove sono io? Ci sono tipo tre buchi in cui ci fanno delle palle probabilmente Come le palle che ha trovato prima Seb Qua ci sono questi bambolotti qua Qualcosa serviranno questi bambolotti qua Qui se non si possono toccare Abbiamo già trovato uno step comunque Cosa avete trovato? Vedi qui Ci sono le palle Ok E sopra c'è delle parrucche con dei colori Probabilmente saranno i colori delle palle Andranno inseriti in ordine Probabilmente sì, manca la pallina blu probabilmente Esatto Aprite tutti i cassetti e vediamo se troviamo la pallina blu Qua c'è un manichino Oh guarda questo armadio Dov'è? Questo qui Vedi tu stanno i pagliacci Ha dei numeri che si possono cliccare Ah ok Wow qua ci sono dei pagliacci sempre colorati Ah si possono prendere Aspetta forse dobbiamo contarli raga Il numero di pagliacci blu, di pagliacci rossi Contateli Contateli Qua ce ne sono due verdi È verde questo qua a destra che non lo capisco Oh Qualcuno ha preso in mano un gubazzo Ok vabbè Questo qua che colore è? Ancora che blu Ah se c'è lì Questo è giallo Ok rimettetelo a posto poi Un lì qua sul tavolo Mettiamoli sul tavolo sì Tutti sul tavolo Così li contiamo Metteteli tutti sul tavolo Alla madonna Questo che cazzo è? La marionetta tipo Allora mettiamola lì Oh è barato Mi mette un moto di agitazione sta roba Ok quanti sono allora di questi qua? Questo è giallo Due rossi Due rossi Uno blu Ha due rossi Uno giallo Uno blu e due verdi E due verdi? Sì Non è cambiato nulla Ok forse ne mancano Non è che anche Qua c'hanno due quadri Un clown Un clown Ma che contano anche questi qua Queste tre teste Qui c'è un simbolo Che somiglia alle parrucche Possibile E qua c'è un clown Che ha cinque palloncini E uno che ne ha uno qui Sono quasi sicuro che Questi enigmi Si risolvano Risolvendone uno iniziale Ok si sbloccono uno dopo l'altro Allora guarda qui una cosa Vedi questo Do sto io Qui c'è un accendino raga Con il numero sei Un accendino con il numero sei Mettiamo sul tavolo Mettiamo sul tavolo Sempre lì Ok Queste sono tutte cose che si sbloccano Risolvendo il primo secondo me Questo qua che cazzo è Questo c'ha la parrucche C'è una specie di parrucca disegnata Qua c'è un nove raga Sopra il ventilatore E l'accendino c'era un numero sei Aspetta ecco Ho capito Questa cosa qua Era vento E del ventilatore sicuro Che numero c'è nel ventilatore? Nove Ok nove Il fuoco questo qua è il numero sei Manca una cosa che Che abbia riferimento alle foglie E alle nuvole Ho la pioggia quello che è Guardate prima Tutto ciò che può essere Relativo a foglie Cos'è del genere Fatevi attorno Deveva essere anche questo Collegato a un altro Cosa a risolvere prima Sapete Vedi qua dove stanno le parrucche Ci sono dei numeri sotto Zero Due E cinque E sicuramente Qui nel carillon C'è una luce verde E una luce rossa Qui non so Indica qualcosa Anche questo qua Lo vedete Nello specchio Luce rossa e luce verde È rosso Giallo Anche è giallo E qua guardate Qua c'è un palloncino Disegnato qua a fianco Allora quello che abbiamo imparato Nell'altro escape room È che gli indizi Perché risolverlo Te li mostra vicino Al codice Quindi qua c'è un palloncino Che è qualcosa Riferita ai palloncini Sicuramente Poi qui Qui sicuramente Dobbiamo contare Il numero di triangoli Che vediamo raga I triangoli gialli Ce n'è Ah qua c'è un triangolo blu Qua un triangolo rosso Ok Ho un triangolo giallo Lassopra E questo qua è un altro triangolo Comunque Questo qua verde È uno 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 Prova uno 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 Non credo Ho provato Secondo me abbiamo più o meno capito Come risolverli tutti Ma siamo bloccati Sì Bloccati perché ci manca qualcosina Che ci sfugge Il problema è Che manca le foglie E il coso Che secondo me Sono in qualche cassetto Di quelli che sblocchi Andando avanti Dobbiamo capire Quale cazzo è il primo enigma Che sblocca gli altri Secondo me potrebbe essere Questo sicuramente Si sblocca con una pallina blu Che non abbiamo Non so se vuol dire qualcosa Ma i bambolotti Che stanno appesi Ha dei segni più accesi Non so se magari 4 1 3 E guarda l'altro L'altro non ha queste cose Già l'ho visto 4 1 3 0 Dov'è che sono qui? Vediamo 0 4 1 3 10 Cioè il bambolotto è qui Ma il bambolotto è vestito nero Cazzata questo ne ha 5 5 1 3 5 1 3 0 0 5 1 3 Capisco Questa giostra di merda? Si può interagire con questa? Eh ma Chi le fai? Si è bloccato tutto Anche a me si è bloccato tutto Allora Ora che abbiamo rivelato Si è rimesso tutto a posto Non toccate nulla Proviamo a vedere in maniera Più ordinata le cose E' più facile secondo me Se c'è ordine Raga aspetta No ho capito Cazzo Guardate che i bambolottini Di colore diverso Hanno un numero di bottoni diversi Questo rosso ne ha 3 5 5 ne ha Ok metteteli sul tavolo Il rosso 5 Non ho capito I bottoni Contate i bottoni Sulla maglia Il verde ne ha 2 Ah dai tu me li dissi Io li metto Dai dai Il giallo ne ha 0 E non c'è No E no Non c'è E prova a non mettere niente 3 2 0 Giallo No Ne devi mettere almeno 1 Cazzo Aspetta Ah Una cavolata Perché scusa Hanno un numero di bottoni diversi Se ci fai caso Capito Sopra Credo di aver capito Vedi che i triangoli 1 2 3 4 Accanto c'è un campello Con dei bottoni All'inizio non c'è Quindi magari è 0 0 5 2 1 Il giallo che numero è 2 Il rosso Si E' vero E' vero E' vero No Questo qua è Questo qua è il colore Verde E' 0 1 3 4 Allora il triangolino blu Ah va qualcosa sopra prima No Manca un cappello allora Il primo cappello manca Guardate un attimo sta roba raga No 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 Ok fermi Qua Questa marionetta qua Allora sicuramente Questa marionetta indica che questo coso si risolve con l'enigma delle marionette Ma non è lì quella che ci serve Perché vedete che c'era già una staccata qui Questa qua è tutta l'impalcatura Tutta a posto Non è quella Ok quindi Questa qua non è questa Ok allora abbiamo capito sta roba qua Sicuramente si risolve così Punto Questo qua lo lasciamo stare Ci serve sta marionetta che è sicuramente dentro qualcosa che sbloccheremo più avanti Questo cazzo di coso del vento Cose fuoco E ci vedete che si risolve lo stesso come ho detto io ora Sicuramente Questo è il vento Ed è 9 L'accendino è fuoco Dove è l'accendino? Dove l'avete messo? E' sul tavolo Il tavolo Ok l'accendino è 6 e poi serve appunto fuoco e verde Lo lasciamo stare anche questo qua Ok anche questo qua sicuramente si risolve con qualcosa che troveremo in qualche cassetto di merda Ora questo dei clown Boh secondo me è il primo che si sblocca A meno che non manchino delle bambolette Proviamo a risolvere Questa c'è Ci sono ste cazzo di foto qui Mancano delle foto da mettere qui Che indicheranno sicuramente Aspetta un po' Dov'è che ho visto un palloncino disegnato da qualche parte? Qui E' qui dove sono io Ma sotto il comodino dove abbiamo messo prima Dove sarà l'accendino insomma Ok vedi che questi sono dei palloncini C'è un numero di palloncini qui 5 Proviamo 0501 prova 0 O scusate io 0 1 Nope Ok comunque qua servono dei palloncini del cazzo E mancano Quindi probabilmente questo qua che ha il palloncino si risolve con questo Ipotizzando che questo sia collegato a questo Ehm Ci serve Dobbiamo capire qual è il primo da fare Perché se troviamo il primo da fare di Enigma Capiamo su quale concentrarci Perché Sennò tutto troppo dispersivo Ah ma ora sblocchiamo il primo qua andiamo come delle macchine Però bisogna sbloccarlo Allora Non è facile Non è fatto facile Raga aspettate un po' Avete notato che sotto Non l'avamo visto questo qua C'è anche un altro con dei cappelli Sì Quello sotto l'altro Ok Magari c'è qualcuno che ha dei cappelli Qualche disegno qualcosa E se provassimo Tipo magari i scaffali sono dei numeri In realtà il cappello è un bait Perché se al primo non c'è un cappello Magari tocca mettere il numero in base alla posizione Magari il blu è uno Il rosso è il due Il giallo è il tre E il verde è quattro Eh proviamo Il giallo com'è? Tre? No Oddio scusa Il giallo è tre Tre Due E poi che c'è? Uno? Uno Quattro Quattro Ma cos Cosa? No aspetta cosa hai fatto? Allora praticamente mi è venuto in mente Magari il cappello a sinistra non c'entra niente No? Perché se lì c'è il logo stato il cappello Vuol dire che manca ancora il cappello Questa è la posizione? Cioè il blu è uno Che era il primo Scaffale Poi il rosso è il due Il giallo era il tre Il terzo scaffale Il verde era il quarto scaffale Il cappello sarà un'altra cosa Il cappello forse è questo qua giù Il cappello Cosa ti ha detto comunque? Cosa ti ha dato là dentro? Il cappello Questa roba Un cavallo Ok il cappello è da contare con Ok il cavallo Ok il cappello raga fermi fermi Il cappello a modo si usa per l'altro Scusate Il cappello è tre Tre Provate tre Tre Trovate tre sei due uno Tre sei due uno Ok 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 Bambolotto Prendi il bambolotto Dov'è? Preso preso Eh è due il bambolotto Due Quindi è Due cinque uno tre Prova Perché è il primo Due cinque due Due cinque uno tre Aspetta Vado io vado io Due cinque uno tre In ordine Oh lo sapevo Che si è sbloccato Ma invece ho messo da clown È un altro cavallo Aspetta un attimo È un altro cavallo Dov'è il cavallo? Nel carillon Nel carillon Mettilo qui Ok Mettilo Mettilo qua Non me lo può mettere Ma ne avete preso anche un altro di cavallo Dov'è l'altro? Ne erano tre Dov'è il terzo? È qua È qua Mettilo Preso Ne manca uno Ok 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 va bene va bene Allora siamo sbloccati Che serve Fammi vedere il vestito Dov'è Non è comunque il fatto di sta bambola Però Però Questo cazzo di vestito Fermi Levatevi Levatevi L'ordine dei colori dei pantaloni È lo stesso delle linee Viola verde Giallo rosso Ok ok contate Provate a contare Le linee Le linee Provate 1 2 3 No lo devi prendere in mano e esaminare Ok dimmi quanti linee sono Allora sono 1 2 3 4 5 blu Ok 1 2 3 4 Verdi Ok 2 gialle 2 gialle E 3 rosse Porca troia Quanto sto godendo Cristo santo Cosa c'è qua dentro Un cavallino E un chiodo Dentro Il chiodo è per il palloncino Fatemi vedere il chiodo Bella madonna Il cavallino l'avete già messo dentro Sì Ne manca solo uno quindi Aspetta E la palla rosso dove l'avete presa la palla rossa Il chiodo è bucato Il palloncino Qui l'avete bucato e l'avete messo qui Ok bisogna mettere in ordine Ora raga sicuramente Allora qua manca soltanto un cavallino Allora fatemi vedere un pochettino qui Allora cosa abbiamo adesso di cose che ci Posso andare avanti Allora soltanto questi palloni Sotto lo specchio Manca il codice Qui agli elementi manca il codice Ok Stiamo andando comunque se ci fate caso Ci stiamo muovendo Ci stiamo muovendo da sinistra a destra eh Ragazzi rosso giallo verde Sono i colori che ci sono nello specchio Vediamo Ok Et voilà I colori in sequenza nello specchio Io li ho messi nelle palle Rosso giallo verde E si è aperto È uscito anche l'ultimo cosa No mancano altri cavalli Un altro ancora C'era un cavallino qua dentro Ok Hai ragione Prendete i bottoni Ha ragione lui E i bottoni Ci ha dato altri due personaggi Con dei bottoni Ok dove sono Ok Giallo ha un bottone Ok Gli altri Dove le vanno questi Il verde ne ha due Ok Il blu ne ha Quattro Ok il rosso E il rosso Ne ha cinque Fatto Lo avevo detto da subito raga Quella cosa si arriva Ok Ok abbiamo la roccia raga Questa è una cosa di quella Cosa degli elementi Mettete il cavallo dentro intanto Il cavallo l'ho messo dentro E abbiamo una bottiglia di plastica Ne manca uno ok Ah l'acqua 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 è otto Aspetta allora il vento Il ventilatore era nove Poi E manca il fuoco Fuoco era l'accendino Sei E verde Verde Una roccia Cinque sarà forse la natura Possibile Aspetta ho sbagliato però Nove Cinque Sei E invece la bottiglia E otto Otto Vai Mamma mia Oddio Mamma mia Qua c'è una testa Fermi fermi Oh raga Fermi raga Allora qua c'avevo il quadro Il numero tre Che è questo qua Ok Ho messo un altro quadro qui raga Che ci serviva per aprire questo qua Ne manca uno Ma la testa dove va? Ah Aspetta qua c'è una C'è il disegno delle parrucche Dimmi che numero c'è nella testa rossa Dimmi che numero c'è Tre Fermo Tre Ok ditemi i numeri di quello Tre Zero 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 Cavallino l'ultimo Mettetelo Adesso E anche il quadro c'è Ne mancano ancora di cavallini Mi sta uno Ok Quattro Dimmi Quattro Cinque Due Uno Quattro Cinque Due Uno Mamma Cavallino l'ultimo Mettilo Ok sta andando Ce l'abbiamo fatta Ma come Di già E come si esce da qui È finita così È finita così Oh mio Dio Raga Raga comunque c'è Dopo che abbiamo fatto i primi È stata una cosa continua Cioè La teoria che fossero tutti collegati Era proprio giusta E ce l'abbiamo fatta Così ci butta via L'animazione potevano metterla Porca di quella puttana Mica sono una delle cose più divertite Che abbiamo mai fatto in vita mia Sta cosa Ve lo giuro Cioè di un divertimento incredibile Quando riesci ad andare avanti Cazzo ti segheresti Cristo Dio Gigi raga Sono stati Sei stati bravi E poi ho pensato alla cosa più strana Per riuscire Ma poi se ci fate caso Tutte le supposizioni Che avevamo fatto Dall'inizio alla fine A parte qualcuna Quello dei palloncini Il numero dei palloncini Da inserire in quel cassetto Con il palloncino Era giusto Quello dei bottoni iniziali Era giusto Quello degli elementi Era giusto Quello di Cosa cazzo era Avevamo già capito tutto Ma mancava Mancava il primo Quello che adesse lì Input Ma ringraziando a Dio Ho provato quella cazzata là Sì Sei tu che hai dato il via a tutto Cazzo Abbiamo fatto Abbiamo giocato per mezz'ora Senza fare nulla Dopodichè abbiamo iniziato A fargli una manetta Dopodichè abbiamo iniziato I capelli ce l'avevano preso in giro Minchia ragazzi Abbiamo messo esattamente C'è un modo per vederlo No Abbiamo messo all'incirca mezzo No non è vero 50 minuti Allora io c'ho una La registrazione è durata 47 minuti Però ho avviato un po' prima Secondo me ci abbiamo messo Una quarantina di minuti A farlo Vabbè raga Mi permette esserci riusciti Poi il tempo Sti gran cazzi Fatto divertentissimo Molto divertente Non sono d'accordo Ragazzi Sto registrando questa outro A fine video Sto stare bene a usare la cam Siamo riusciti a completare Questa escape room È stato divertentissimo Veramente Molto molto bello Vado a sapere se volete vedere Altre video di questo tipo Ogni tanto chiaramente Qualcosa di diverso Però è interessante Secondo me Perché comunque Ti spremi proprio il cervello Cioè ti fa impegnare È proprio un gioco interessante Quindi boh Fatemi sapere voi Ci becchiamo alla prossima Qui da Velox è tutto Bella raga Ciao